La Ferentina è una squadra forte e noi dobbiamo essere al massimo. Sappiamo che è una squadra che fa un grande pressing, che cerca di pressare molto alto e noi essere bravi di superare questa prima pressione e poi andare ad attaccare, che è la cosa che abbiamo fatto un po' meno bene nella partita d'andata. Tutte le partite che abbiamo giocato in casa abbiamo avuto qualcosa in più con il nostro pubblico e speriamo che lunedì sia nel stesso modo e dipende tanto da noi, dipende da quello che faremo in campo, da come entreremo dal primo minuto e sono convinto che faremo una grande partita e alla fine è automatico che il sostegno del pubblico ci possa dare una mano. Noi giocheremo come sempre, ci sono dei momenti, la partita o ogni partita ha una storia diversa. Cercheremo di sfruttare quei momenti che durante una partita abbiamo al nostro favore e cercare di limitare i punti forti che hanno perché è una buona squadra, una squadra che sta lottando per rimanere in Europa e noi lottando per il nostro obiettivo. È un allenatore che ha dimostrato un grande valore, per quello è andato anche a una squadra oggi come la Fiorentina. Da parte mia rispetto per il collega, rispetto per il lavoro, rispetto per quello che ha fatto e noi da oggi in poi pensare al presente e futuro che è la nostra squadra. Si sono allenati oggi, abbiamo ancora un'altra prova per vedere come stanno tutti i giocatori e alla fine prenderemo quelli che siano pronti.